15.000 mi piace, prossimo video con i Fantastici 4 Signori, signore, sono Luca Campolunghi Benvenuti in un nuovissimo video finalmente con i Fantastici 4 Possiamo dirlo? Iniziamo il 2024 col bo Buon anno a tutti Buon anno Buon anno a tutti Buon anno Quali sono i vostri propositi per l'anno nuovo, Lukic? Diventare meno formalosa E iniziare palestra regolarmente Io devo andare in palestra e mettermi a dieta Anche io Allora Adesso qui vedi che iniziate a ridere poco ragazzi Perché qua abbiamo delle caramelle Ma non sono caramelle normali Perché sono caramelle a più gusti No raga ma c'è f***a Mamma Che odore No raga no Allora 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 Queste caramelle Alcune sono buone E alcune fanno letteralmente schifo Abbiamo questa caramella arancione Arancione con le macchine Che è pesca oppure vomito Poi abbiamo quella rossa Che è melograno Oppure una benda usata Sudata Che schifo ma come fa a sapere di farlo? Eh non lo so non voglio saperlo Ma io che cazzo ne so scusate Poi abbiamo quella azzurra Quella azzurra può essere o mirtillo o dentifricio Comunque Che il dentifricio Boh non so se fa schifo in versione caramella Poi abbiamo quella bianca Che è o una torta Oppure piatti sporchi Quella verde Può essere o pera O caccola Poi abbiamo quella marrone Basta Quella marrone Di quale mi sto pensando Quella marrone Può essere o cappuccino O Fegato E cipolla Dai basta Abbiamo quella gialla Che può essere Popcorn O Uova marce Che schifo Ma se ne sono schifo tutte in generale Abbiamo questo rosino Che può essere O uno smoothie Fragola e banana Oppure Pesce morto Dai vabbè basta Andiamo avanti E per finire Abbiamo Questa che è Colore Bianco sporco Non lo so Che può essere O Marshmallow Oppure Cimice Io direi Che Possiamo Iniziare Chi inizia? Io no Il proprietario del video Prego No 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 C***o Che schifo Oh mio dio Oh mio dio Ragazzi Adesso dovete scegliere anche voi Una di queste Qualcuna sarà alla pesca E qualcuna Sarà al volito Prego 3 2 1 Masticale La mia fa schifissimo La mia fa schifissimo La mia fa schifissimo Mazzurra Mirtillo Dentifricio Signori Prego 3 No no Sapete 3 1 1 Basta Vi dico Ma mia stai il dentifricio Dentifricio Quella non è male Ci abbiamo beccato tutti i dentifricio Prova il dentifricio Dentifricio Adesso È il momento Chiudi gli occhi È il momento di Alice Oh mio dio Verde No Adesso Caramella Verde Opera O Caccola Attimi di tensione Caccola Opera 3 2 1 No 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 Caccola Pila C'è l'unica spiegata Che ho preso io Era il dentifricio Ma va a cagare Mi sono evitato La caccola E mi sono evitato il vomito Prego Robert No io basta Sono di pancia Non mi interessa Robert Ma a me non me ne ha fregato Proprio un gazzio Attenzione Questo può essere O banana E fragola Oppure Pesce morto Chi avrà frago Chi avrà fragole E balana E chi avrà il pesciolone Morto Ma fanno i seri E ste cose Dai Prego voi la scelta Ma no mi sta Sto muovendo lo stomaco Ma non mi interessa Robert Me l'ha fatta a me Guardare Mi bagno Allora vado un attimo in bagno Da te Oh mio dio Rosso O melograno O Calzino Usato Chi il melograno E chi il calzino Usato Prego Io Distinto Ti dico questa E vado su questa Che questo Mi farà scritto Con sicuro Tre Due Uno Ho bisogno dell'acqua Ma a te Non ce l'ho più io Non ce l'ho più No Mi lega Mi lega Mi lega Robert No Ultime tre caramelle Caramella gialla Che può essere O pop corn O Uovo Marcio Quindi Dai Robert Quanto è l'ancione quella Dammi quella gialla Tre Due Pop corn Oh Pop corn Caramella Bianca Che può essere O Torta Oppure Sì La vasto Viglia Prego Tre Due Uno La mia è buona Ti devo dire Torta Ultimo Attenzione Matteo Robert Quella Marrone O Cappuccino Oppure Fegato E cipolla Ne abbiamo solo tre Però Non so per quale motivo Ce ne sono solo tre Io non gli ho Quindi zitto Faremo il gioco del dito Chi esce È salvo Tre Due Uno Oh mio dio Io me ne lavo le mani Scrivete qui sotto nei commenti Secondo voi Chi è stato il più fortunato In questo gioco Luca 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 E allora tre Due Uno Di cosa sta Cappuccino Fegato e cipolla Cappuccino 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 C'è la mia C'è lì caffè Devo essere sincero Non è andata male Buona questa Una sui 40 Siamo arrivati alla fine del video Scrivete qui sotto nei commenti Dai Chi è stato più sfortunato Secondo voi Poteva andarmi meglio Vabbè Luca Mi raccomando Iscrivetevi Mettete mi piace Condividete Lasciate un like Attivate la campanellina